The Football Story presenta un mito del calcio, Lido Vieri, nato a Piombino il 16 luglio 1939, è un ex calciatore di ruolo portiere e allenatore di calcio italiano. Vieri si trasferì nelle giovanili del Torino all'età di 15 anni. In quel periodo, il Torino stava ancora ricostruendo il proprio settore giovanile e la propria squadra che era stata perduta nella tragedia di Superga. Passato un anno nelle giovanili del Toro, a 18 anni Vieri fu mandato al Vigevano per fare esperienza, diventandone subito il titolare. Quell'anno disputò 31 partite dimostrando tutto il suo valore. I Granata, dopo l'ottima stagione al Vigevano, lo richiamarono a Torino vedendo in lui il loro futuro portiere. Vieri esordì in Serie A il 21 settembre 1958 in Torino-Alessandria 6-1, rimanendo a difesa della Porta Granata per 11 stagioni, dimostrando una forte personalità e una grande affidabilità tra i pali. Collezionando 357 presenze, 275 in campionato, 46 in Coppa Italia e 36 in Europa, risultando fino ad oggi il quinto assoluto nella storia del Torino. Coni Granata vinse la Coppa Italia nel 1968 e nella stagione 1962-1963 vinse il premio Combi come miglior portiere della Serie A. Nell'estate del 1969 Vieri fu acquistato dall'Inter, questo trasferimento a Milano fu per lui una consacrazione tra i grandi portieri italiani. Con l'Inter vinse lo Scudetto nella stagione 1970-1971, nella stessa stagione mantenne la propria porta inviolata per 685 minuti, stabilendo un record per il club nerazzurro, successivamente superato da Ivano Bordon. Con i nerazzurri collezionò 199 presenze, 140 in campionato, 36 in Coppa Italia e 23 in Europa. Dopo la definitiva esplosione di Bordon come titolare, lasciò l'Inter nel 1976 per andare a giocare nella Pistoiese, in Serie C. Qui contribuì alla promozione della squadra in Serie B, 1976-1977, e alla salvezza nella stagione successiva. Alla fine della stagione 1979-1980, a 41 anni, si ritirò dall'attività agonistica per intraprendere la carriera da allenatore. La prima panchina di Lido Vieri come allenatore fu quella della sua ultima squadra professionistica da giocatore, la Pistoiese, nella Serie A 1980-1981. Dopo un avvio di campionato stentato, la società prima lo esonerò, salvo poi reintegrarlo per affiancarlo a Edmundo Fabri. Dopo la retrocessione, l'anno seguente allenò il Siracusa in Serie C, cui fecero seguito la Massese, la Carrarese e la Juve Stabia a più riprese. Successivamente passò all'incarico di allenatore dei portieri, impegnandosi per molto tempo nella preparazione degli estremi difensori del Torino, fino al 2005. Con i Granata, Vieri sedette anche in panchina in sostituzione del primo allenatore esonerato in diverse stagioni. Nella stagione 2005-2006 fu allenatore dei portieri del Pontassieve e collaborò come istruttore alla Scuola Calcio Gabetto di Torino. Nel febbraio 2006, come figura di spicco dello sport torinese passato e presente, partecipò alla cerimonia d'apertura dei ventesimo giochi olimpici invernali allo Stadio Olimpico. A livello internazionale, il nazionale esordì il 27 marzo 1963 nella partita contro la Turchia a Istanbul, giocando in totale quattro partite fino al 1970 e figurando come terzo portiere sia nei convocati per il vittorioso campionato d'Europa 1968 in casa, sia per il campionato del mondo 1970 in Messico. Ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie